Buongiorno ed eccoci arrivati al giorno 2, cioè il 2 di dicembre del calendario dell'avvento Yves Rocher. Lo andiamo ad aprire e andiamo a cercare la nostra casellina numero 2. Allora, eccola qui. Chissà cosa c'è oggi. Ah, naturalmente scende l'otto. Allora, vediamo un po'. Scatolina, ingredienti di origine naturale. Parla delle mani, delicatamente profumate, idratate. Vediamo. Uuuuh, che bello! Pensate che lo volevo prendere, questa profumazione. Queste le mandorle dolci, praticamente al latte di mandorle. Volevo prenderla, questa profumazione natalizia, però meno male che mi sono tenuta perché stanno uscendo fuori tutte nel mio calendario. Questa, allora, sicuramente sarà la mia crema mani di questo mese. Perché quel formato piccolo non ce l'avevo ancora aperto e quindi questo va bene sia da borsetta che da tenere sul comodino. Questo mese userò questa. Siccome io ne metto molta, che ho le mani sempre secche e disidratate. Via, bellissimo, bellissimo. Lo rimettiamo dentro la scatolina e col numero 2 vi saluto con questa scatolina e ci vediamo domani per la numero 3. Ciao! Ciao!